Si è rinnovato nello scorso weekend l'appuntamento con il Quinto Memory al Turicosta di Jiu Jitsu nella splendida location del Docio di Catania. Una due giorni ricca di spunti, quella catanese che ha visto la partecipazione di 174 praticanti seguiti dai maestri Cosimo Costa e Fabio Cavallaro e dall'israeliano Amir Barnea. Ospite d'onore e che ha dato tocco di internazionalità all'evento Budo San Frontier International Autumn Camp. Quattro i momenti previsti dalla manifestazione. Nella mattina della prima giornata si svolta lo stage delle cinture nere dei tecnici e spazzo subito dopo alle cinture colorate over 13 che hanno seguito con grande attenzione un percorso tecnico promosso dai tre maestri focalizzati in particolare su uso e difesa da bastone corto e coltello. Un momento certamente significativo e di grande crescita per uno sport tecnico come il Jiu Jitsu che non è un sign con migliaia di praticanti in Italia. La domenica è stata dedicata ai più piccoli con i ragazzi ai 9 e 12 anni che hanno apprezzato quanto proposto la tenna di docenti ed alcuni altri anziani che hanno presentato le spettacolari dimostrazioni. Nell'ultima parte della giornata i bambini dai 5 agli 8 anni sono rimasti affascinati dalle dimostrazioni del maestro Spalletta. Il tutto alla presenza di Salvo Spinella, vicepresidente nazionale vicario dell'Oxain, anche lui ex allievo del maestro. Al prossimo episodio